Laureati di Roma, siete in cerca di lavoro? Forse la soluzione trovata da un 34 anni di potenza può esservi d'aiuto. Fa la cavia umana in Svizzera per 600 euro al giorno, che ve ne pare? Penso che lo farei per meno di 600 euro al giorno e penso che mi sto laureando in storia dell'arte e non lo so, forse il mio futuro sarà la cavia umana. Tanto per cominciare la cavia umana è una cosa da non fare, né per 600 né per 1000 né per 10.000 euro, numero uno. Numero due è il fatto che uno se ne debba emigrare in Svizzera per andare a cimolare 600 euro per campare, è lo specchio di quanto funziona male la struttura sociale nostra alla fine. Perdere la salute per fare la cavia a 250 euro, 600 euro al giorno, ma anche 1000 euro al giorno, non è una cosa che secondo me può essere contemplata. C'è una persona che fa una cosa del genere e ci deve far capire a che livelli stiamo. Mi preoccupa anche per me, io studio scienze umanistiche e con una laurea in storia avrò decisamente molte difficoltà. C'è anche da chiedersi se ormai serve studiare. Non pensi che sia un po' di pigrizia anche nel cercare lavoro qui, un po' di rassennazione? Ma pigrizia anche magari, gli italiani sono pigri, sono pigro pure io, però è il sistema nostro che funziona male, non si trova a posto facilmente. No, non penso, studio il lavoro e sono fuori corso proprio perché studio il lavoro e non trovo lavori abbastanza redditizi o gratificanti. Ci si può inventare qualcosa autonomamente, ci si può riuscire a rabbattare e cercare di crearsi un lavoro, anche se l'estero offre di più in ogni caso. E magari studiare una lingua straniera e cercare lavoro all'estero che sia anerante con il proprio percorso di studi? Sarebbe una cosa da fare, capace che vado pure io a emigrare, non a fare la cavia però. Perché se gli italiani devono andare via in altre nazioni a cercare lavoro, le altre nazioni glielo offrono, glielo danno. Noi in Italia, che siamo la pari della letteratura delle arte, dobbiamo trovare lavoro. Ci sono sei anni di studio perché cinque più uno per fare il precario a vita, speriamo bene. Dovremmo riflettere, dovremmo riflettere tanto su questa cosa e chiederci se vale veramente la pena continuare in questo modo oppure aggregarci tutti insieme e cercare di ribaltare quella che è la situazione attuale. Grazie.